Allora, Aaron è impegnato? Papà non c'è, ci sono io. Eh? Papà, sei cresciuta, eh? Ricordo che eri una bambina. Quando abbiamo firmato il contratto, ti mangiavi un gelato. Sì, era dieci anni fa. Quel contratto è scaduto. In che senso è scaduto? È finito. Ma si poteva rinnovare al termine. Sì, ma entrambe le parti devono essere d'accordo. Ah. Va bene, siamo d'accordo. Entrambi. Divertente. Intendevo voi ed io. Sono felice che voi siate d'accordo, ma ho ricevuto un'offerta migliore. Vi ho chiamato proprio per dirvelo. Ma ce lo dici così? Sì. Non puoi farci questo. La proprietà è mia. Aaron ne ha conoscenza? Vorrei parlarne con lui. Papà è in pensione. Vuoi dire qualcosa? Dilla a me. Ma è il nostro lavoro, la nostra vita. Amiamo quel posto. Non sono solo quattro mura. Ragazzi, mi dispiace molto, ma è previsto dal contratto. Non ho fatto nulla di sbagliato. Controllate. Beh, abbiamo finito. Ora ho un'altra riunione. Mi dispiace davvero.